Vai! Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? La bella! Troiano, ano di trota, giù. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano, ano di trota, giù. Pronto? Sì, pronto? Franco, ma non ti lego! No, sei un bambino. Quando torni a casa mamma? Non sono tua madre, non ho figli, hai sbagliato numero forse? Adesso ci metto il coltello alla gola, Franco. No, 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 come ti chiami? Faccio la cacca sul divano se non torni a casa mamma. Va bene, non è un problema mio. Ti saluto. Ti saluto anch'io, puttana. Ma lei è Batman? No, il mio amico Franco! Minchia! C'è qualche cosa faccia? Troiano, mano di trota senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase mi hai sminchiato i coglioni e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame al reparto grandi istitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, non solo con se stesso e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Quando la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Anno di Trota sembra più che assicurato. All'età di sette anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A otto anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. E' allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per due anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per tre anni lavora come vecchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto. Ahi ancora. Pronto? Sì, pronto? Sono Batman. No, guardi. Check, check, prova. Sì, funziona il microfono. Grazie. Che telefonate sono? E' allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro. Scappano le scuole. Pronto? Aia. Non so perché, ma temo sia Joker. Sì. No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato il mio. Ah, per vederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test e in quattro anni accumula un discreto patrimonio. Per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Ma poverino. Stasera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale, quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però, di lui si sono perse le tracce. Noi di chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano. Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo, era congiato male, ma entra e mi chiede se per caso cercava un dipendente. Col cazzo gli risponde, allora lui mi chiede un gratta e vinci. Poi si mettono in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa Sì, sì, ho vinto, ho vinto il gratta e vinci, cazzo ho vinto. E poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa, un attimo che non mi ricordo tanto bene, un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipa targata somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda. Dopo quest'episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli infilenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio. Ma se sono carica di loro, il vitello neanche si va bene, il vitello neanche. Il vitello neanche si va bene, il vitello neanche, le fettine di vitello non fanno bene. Le fettine di vitello non si vanno bene? Le fettine di vitello non si vanno bene? Poveraccia. Devi rispondere, le fettine di vitello non si vanno bene? Mamma mia. Le fettine di vitello rispondi, perché devo tornare la coppa con un carica di roba. Le fettine di vitello non si vanno bene? Che saurità. Mamma mia. Che saurità. Eh? Eh, queste sono le signore italiane che hanno vissuto. No, questa donna è disperata. Vissuta chiusa in casa per due anni. Questa è una persona che vive con un bastardo. O un uomo, o una suocera, o una madre. No, un figlio, un figlio. No, col figlio non ti incazzi così.